Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Inter 3, Udinese 1, ma un'unica parola, ladri, ladri a caratteri cubitali, no? Rompete il cazzo tutte le squadre e poi siete voi e vi fate dare i rigorini, rigore inesistente, prima palla, poi giocatore, poi Lukaku, al primo tentativo lo sbaglia e va ribattuto. Chi li ribatte sempre di corini? Ce lo ricordiamo noi gobbi, no? Chi li ribatte sempre? Li ribattono sempre sti prescritti, questi prescritti di merda, eh? Come mai? Come mai? E come mai su di voi non si va mai a vedere il marcio e c'è dietro? Fate schifo, siete una squadra di merda, siete dei ladri patentati. Non lo fate vedere sto video in giro, non lo fate vedere perché siete dei ladri!